La Forti di Sarezzo riesce ad approdare in seconda categoria, ci eravamo fermati alla semifinale playoff purtroppo sfumato lì il sogno, poi finalmente è arrivata la chiamata. Sì, è stata una chiamata piacevole, ci speravamo perché avevamo chiuso il campionato di terza categoria a secondi a quattro punti dalla prima, siamo usciti con la marombocca in semifinale contro il Chimera e quindi siamo contenti di questa decisione che è stata presa, di questi ripescaggi, ci eravamo attrezzati anche per un eventuale ripescaggio e quindi così è stato. Infatti era la domanda successiva proprio questa, il mercato della Forti si è chiuso, cambierà, ci sarà bisogno di innesti soprattutto per i fuori quota o no? Sì, nel senso che ci siamo noi già attrezzati con i fuori quota e come ho detto prima speravamo su questo ripescaggio e quindi abbiamo costruito una rosa dove poteva essere competitiva sia in terza che anche con un ipotetico ripescaggio, quindi abbiamo preso dei fuori quota abbastanza interessanti oltre alla punta Batrino che non è fuori quota ma insomma il curriculum parla da solo. Il mercato in entrata dovrebbe essere chiuso a meno che magari non capita qualche occasione dell'ultimo minuto ma se no siamo una rosa abbastanza ampia a posto così. Abbiamo preso ora un portiere 95 fuori quota che va a chiudere il cerchio dei portieri insieme a Claudio e Caneschi. Avete già visto un po' quelle che potrebbero essere le prossime avversarie? In generale la seconda categoria Aretina ha due gironi praticamente riservati, il girone L e il girone N. Non so se vi siete fatti un'idea visto che magari vi capita il girone N e ci sarebbe davvero un'infinità di derby. Sì, sono due gironi abbastanza duri secondo me, sia il girone della Valdichiana che quello del Casentino. Squadre abbastanza blasonate che si sono rinforzate, mi viene da pensare Arassina e Casentino, mi viene da pensare Tegoleto, lo stesso Battifolle. Insomma squadre retrocesse comunque sia che si sono rinforzate e quelle che in categoria hanno fatto altrettanto. Noi tanto è una lotteria dove ti mettono, ti mettono, cercheremo di dare il nostro meglio, quello che cederò io è una salvezza tranquilla, poi vediamo dopo quella quello che verrà.